Un traffico di stupefacenti che da Codogno arrivava alla Valtrebbia, un giro da 700 grammi di hashish al mese. A far scattare le indagini è stato il coraggio e la disperazione di una madre, che la scorsa primavera si era rivolta ai carabinieri della compagnia di Bobbio per denunciare quanto stava accadendo nella sua famiglia. A desasperare la donna era la dipendenza del figlio 24enne dalla droga e i luschi personaggi con cui si accompagnava sempre più frequentemente. Le forze dell'ordine hanno iniziato a monitorare la situazione e presto hanno purato l'esistenza di un ingente traffico di stupefacenti. A rifornire il 24enne trovato dai militari con 12 grammi di hashish ed un suo coetaneo residente in Valtrebbia, erano due giovani fidanzati di Codogno, una 26enne e il compagno di 30 anni, insieme a un 18enne di origine sudamericana residente a Castel San Giovanni. L'attenzione nostra degli investigatori e collaboratori miei è stata attirata in particolare da una madre, comunque sia dei genitori preoccupati per il rendimento dei loro figli, per i loro atteggiamenti e per i rischi che comunque l'uso degli stupefacenti comporta. Da qui muove l'indagine e i risultati che sono stati ottenuti, al di là delle denunce di un arresto in flagranza, sono l'emissione di tre ordini di custodia, in questo caso la sottoposizione all'obbligo di presentazione della Polizia Giudiziaria da parte di questi tre personaggi riconosciuti responsabili di detenzioni, fini di spaccio di stupefacenti e di quantitativi che per i nostri sequestri sono stati intorno ai 150 grammi di hashish ma che comunque si attestavano intorno a un centinaio di grammi di hashish alla settimana smerciato agli acquirenti. La 26enne Ludigiana è stata arrestata in flagranza di reato mentre il compagno è stato denunciato a piedi libero. Per il 24enne della Valtrebbia è stata disposta a una misura cautelare con l'obbligo di firma, così come per l'altro giovane compaesano e per il 18enne di Castel San Giovanni, 20 persone sono state segnalate come assuntori.